Le naiedi hanno ufficialmente aperto i battenti e sono tante le persone in fila per iscriversi ai nuovi corsi. Abbiamo ridato un importantissimo impianto per la pratica sportiva e per la formazione sportiva a Pescara e all'Abruzzo. È un punto di partenza, adesso ci dobbiamo occupare di coloro che lavoravano qui, che devono tornare a lavorare qui, quindi dobbiamo assicurare un equilibrio economico e continuare a far crescere questo impianto, che però oggi ha nuova vita. Le naiedi sono un punto di riferimento per lo sport pescarese nazionale. L'impianto infatti è stato teatro di importanti manifestazioni, grandi vittorie a mare sconfitte, nonché la casa di squadre con una storia alle spalle di tutto rilievo, come la leggendaria selezione cittadina di pallanuoto. Io credo sia un punto di riferimento almeno per gli sport d'acqua in Italia o comunque lo è stato e deve tornare ad esserlo e ha la potenzialità per poter tornare ad esserlo. Il nostro impegno è appunto quello di non smettere di occuparci alle naiedi, ma di accompagnarle in questo percorso di rinascita fino a quando magari torneremo a vedere una squadra di pallanuoto abruzzese giocare qui alle naiedi o qualche nostro grande atleta del nuoto magari ristabilisci un record o vedere grandi iniziative culturali, musicali e appunto sportive come alle naiedi era sempre avvenuto.